Sono ricordi che si fanno degli studi di Carlo Starnazzi perché ultimamente mi sembra che si erano stati un po' dimenticati, per cui si è parlato di altri punti, per cui ho ritenuto indispensabile promuovere una conferenza con studiosi in signi. Una conferenza per approfondire gli studi del professor Carlo Starnazzi, lo studioso e storico dell'arte che per primo ipotizzò che sullo sfondo della Gioconda di Leonardo da Vinci vi fosse ritratto Ponte Buriano. Era uno studioso infaticabile, si portava a libri e ricerche ovunque perché oltre agli studi relativi ai paesaggi della Gioconda e della Madonna di Fusi ha cercato sempre comunque il legame di Leonardo con il territorio aretino, con la terra d'Arezzo. Quindi si è dedicato a questi studi in modo appassionato e infaticabile. I suoi studi sono stati riconosciuti come rigore scientifico condotto da mio marito, dal professor Carlo Pedretti che era stato direttore dell'Armer Center for Leonardo Studios di Los Angeles, da ancora prima Federico Zeri, poi da Martin Kemp dell'Università di Oxford. Quindi credo che non ci siano a questo punto più dubbi rispetto al legame che Leonardo ha avuto con il territorio aretino, in particolar modo sul paesaggio di Leonardo, della Mona Lisa e della Madonna dei Fusi che non può essere altro che questo di Ponte Buriano. Presente anche Massimo Ricci, curatore di una ricerca pluriennale riguardante Ponte Buriano ed il prima di individuare e spiegare la tecnologia usata per la sua costruzione. Anche per lui non c'è nessun dubbio. Per me non c'è assolutamente dubbio. Il Ponte della Gioconda è disegnato con gli archi a sesto ribassato e con i bastioni che arrivano al piano di calpestio della strada. Esattamente come il Ponte di Buriano. E non c'è altro ponte con queste caratteristiche.